40 film premiati ai festival di tutto il mondo, anteprime, incontri con gli autori, una mostra, sfilate di costumi tradizionali, performance di danza e arti marziali. Sono questi i punti di forza della sedicesima edizione del Florence Corea Film Fest, diretto da Riccardo Gelli che esiterà al cinema la compagnia in varie location cittadine dal 22 al 30 marzo e che darà il là alla primavera di cinema orientale. Al centro dei film i tanti volti della cultura sudcoreana di ieri e di oggi è un particolare focus dedicato al complicato rapporto tra le due Coree, del sud e del nord, tra segnali di distensione e forti contraposizioni politiche e militari. Naturalmente la cinematografia coreana è piena di produzioni che riguardano non so, dei rapporti con la Corea del nord, spionaggio, anche rapporti sentimentali delle volte, o sportivi anche, perché noi faremo vedere una partita di pallavolo praticamente in questo film, in questa sezione e appunto racconteremo, faremo vedere un po' da parte del sud perché purtroppo non abbiamo potuto far vedere film sulla Corea del nord e anche per ragioni appunto istituzionali, però appunto cerchiamo di far capire meglio questa situazione tra Corea del nord e Corea del sud e faremo vedere alle 15 del 23 un documentario proprio su donne coreane del nord che sono scappate dalla Corea del nord e ora vivono in Corea del sud, è molto interessante. L'evento d'apertura giovedì 22 marzo è affidato al film storico The Fortress, che sarà presentato in anteprima europea dal regista Gwang Dong-ju. Ambientato nel 1636, il film racconta la seconda invasione Manchu della Corea e sulle orme della vita dell'imperatore Inge pone interrogativi attuali sulla possibile risoluzione dei conflitti attraverso la diplomazia invece che con i conflitti bellici. La serata di chiusura sarà invece dedicata alla prima europea di Room No. 7, commedia noir che regista Lee Jong-sung, presente in sala, ha realizzato mettendo insieme comicità e suspense. Ma la stella che illuminerà il cinema alla compagnia sarà l'attore Ha Joon-ho, che presenterà in anteprima europea sabato 24 marzo l'ultima pellicola di cui è protagonista, il fantasy metafisico Along with God, The Two Worlds. A completare la manifestazione ci saranno mostre, eventi e spettacoli organizzati nell'ambito del Florence Korea Week, tra cui la suggestiva mostra Imaging Korea, oltre i popoli, la terra e il tempo. 120 fotografie di 7 artisti coreani che vanno ad indacare le usanze e le contraddizioni della Corea del Sud. La mostra si terrà dal 23 marzo al 22 aprile a Villa Bardini. Poi anche la mostra Imaging Korea, che è appunto a Villa Bardini, dal 23 di marzo, sono 120 fotografie di 7 fotografie, dal 1970 fino ai nostri giorni raccontano un po' la storia della Corea in questo caso, dal rurale a industriale, uno dei paesi più importanti industrializzati. però è molto interessante e poi siamo molto felici che Villa Bardini abbia voluto appunto collaborare come del resto anche alla regione toscana e al Comune di Firenze per appunto il Festival del Florence Korea Film Festival.